Ma avanti, aspettiamo, sono sempre qua. E andiamo con il nostro Federico Pini nel centro di Amatrice. Ritorno alla vita dopo il terremoto e anche andare al bar la domenica a prendere un caffè. Quel bar era stato distrutto e adesso è di nuovo lì, aperto. È così Federico? È vero, perché un gesto semplice come prendere una tazzina di caffè al bar può costituire davvero un punto di ripartenza. La speranza, qui vedete il nastro tricolore e vi documentiamo in diretta proprio la rinascita. È vero, in questo momento ecco il taglio del nastro. Questo è l'applauso della gente, vedete, che è arrivata qui. Perché questo era proprio il bar, punto di riferimento anche sociale di questa comunità. Questa è la nuova struttura in legno, però voglio farvi anche vedere quello che era invece il bar prima, cioè ridotto proprio in macerie. Il giovane proprietario, grazie al contributo dell'associazione di categorie e dei volontari, può ripartire oggi perché tra l'altro in arrivo anche una bambina, dunque per lui è davvero una ripartenza in toto. Vi ricordo solo che le imprese qui nel territorio, prima del sisma, che operavano 10.000, pensate dunque quanto è stato colpito anche al cuore economico questa terra. Lina allo studio. Grazie.